A me il film come montato così in questa sequenza e in questa scena non piace, la tua musica è troppo bella, lo rimonto da capo seguendo i sync della tua musica e questa volta decido io di montare sulla tua musica, che di solito si fa al contrario. E allora vi faccio vedere questa sequenza bellissima, che è proprio quello che vi dicevo poco fa, la sequenza finale, l'inseguimento. Poi non parlo più, noterete tutti i sincroni musicali perfetti. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no! No, 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 no! Grazie a tutti.